amore non si fa questo, si fa questo? no, non si fa, guarda quante belle cose abbiamo comprato tu già stai distruggendo, abbiamo comprato l'accappatoio di topolino per la nostra pupi che bello, poi abbiamo comprato la spazzola e due spugne per fare il bagnetto a pupi, è vero? si bagnetto, si bagnetto, ciao ragazze e ciao ragazzi siamo nel nostro bagno, Max con la testa tagliata c'è anche pupi che dobbiamo fare il bagnetto a pupi, voi ci avete tanto tanto richiesto di vederlo, è vero? chi c'è pupi, non è tanto felice pupi? no, 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 finalmente pupi si è fatta un po' più granicella ho fatto due le vaccinazioni veterinari e ho detto finalmente può fare il bagnetto, siamo felicissimi quindi adesso la facciamo la mettiamo dentro l'acqua come è la temperatura? aspetta che è caldo è calda? va bene un po' calda, lontanissimo dai amore, vieni piano piano vai dentro vai guarda ti abbiamo comprato la spugnetta rosa guardate che bella spugnetta rosa e poi io sto usando questo qua che è un detergente antibatterico semplicemente è un detergente delicato quindi nulla in particolare è buono perché è antibatterico c'è anche l'estratto di albisabololo è qualcosa di antibatterico che quindi va bene per lei quindi non uso prodotti troppo aggressivi ho messo, ho metto un poco di sapone sulla spugnetta, l'ho messo anche dentro e l'ho in sapone ma tutte le spugne devo fare questa qua è un guida per le unghiette e ci amiamo la nostra pupi vai pupi, vieni ti piace il bagnetto? nooo e mi piace molto io ho già sovratti due cani quindi ho fatto tanti tanti bagnetti non si lecca il sapone e a non far andare l'acqua nelle orecchie infatti ho la testa guardate non gliela lavo tantissimo perché l'acqua nelle orecchie è pericoloso se ci può venire la figura bene amore dobbiamo lavare bene questa parte di sotto la pappallina tizze guarda com'è bello cioc 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 eeeh cioc 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 e notare un poco muota nooo adesso vediamo questa fa guida e andiamo a lavare un po' le tampette bene amore giarpetta uno guardiamo la giarpetta bene bene tutte queste unghiette tutte sporche a mamma c'hai tutti sporchi queste giarpette giù è vero mamma vediamo ecco qua eccola qua non è come tutta insabonata bella un po' la testa così ehi e faccio sciambo si lasciamo muovì muovì è troppo calda l'acqua eh sicimo siamo bene bene salchiamo la nostra buba la nostra buba puttina zzi 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 dopo mamma poi faccio dire anche come epilisco epilisco tutte le orecchie da spazio e adesso è accampato di topolino com'è bella, mantieni la festa così penso diciamo che è per bambini guardate com'è bella tutto il tempo aggottato amore che sei bellissima che bellissima mamma che bellissima adesso mamma ti asciuga che bellissima topolina siamo fuori a barco e asciughiamo un po' al sole perché fortunatamente è una bellissima giornata abbiamo asciugato poco a poco col forno perché lei non lo sopporta come tutti gli animali adesso la spazzolo con questa purissima spazzola doppia, molto bella di solito ai cani piace essere spazzolati vediamo se a te piace spazzoliamo così sempre delicatamente che c'è? lei fortunatamente ha pelo corto quindi diciamo questa parte qua non serve neanche tanto perché questa serve quando per i cani no ma non gli devi fare con qui questa serve per pelo lungo però è un massaggio per loro guarda bene mi piace un poco così proprio assai questo si spazia ehi ehi aspetta ti devi asciugare bene cattiva mamma è una cattivuna tu la vuole mangiare? no la vuole mangiare una buona via lo sai sei proprio una bambolina mi sta riempendo di peli quanti peli prendi? rubi rubi via ecco pulisco le orecchie adesso il mio assistente mi va a prendere due cotto fiocche per pulire le orecchie con il tuo cagnolino cortex non si mangia nei cotto fiocche vado a pulire bene bene gli occhietti aspettiamo la seduta brava così per gli occhietti ci possono stare qualche schifezzina così poi le orecchie prima superficialmente un po' così devi farti pulire le orecchie quella brava dai un attimo un attimino dai brava dopo il biscottino dopo il biscottino per premio sempre bisogna darglielo ecco lei ha le orecchie molto grandi quindi praticamente accumulano tanta sporcizia le orecchie mi faccia la cazza dai ma che fai? no lascia dai cotto un fiocco però sempre piano 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 poi non lo metto ovviamente dentro sempre la parte esterna dell'orecchio vedi perché lei ha tante schifezzine nell'orecchio non mai ce le pulisce brava vuoi biscottino brava wow che schifo guarda che schifo aveva nelle orecchie schifosa schifosissima e adesso biscottino biscottino adesso sì aspetta super premio dare sempre a proprio cagnolino dopo un biscottino così associa il bagnetto al biscottino eccolo comoda eccolo tieni sì grazie adesso la prossima volta lo farò più volentieri ma qua ancora un altro biscottino pupi tieni sì che buono il biscottino sì che buonissimo ma come sei bella con questo musetto tutto pulito e profumato sei bellissima questa è tutta la mia pupi bella pulita e profumata l'amore di mamma guardate com'è bella secondo me le è piaciuto farsi il bagnetto comunque è donna e le piace farsi bella e pulirsi e tutta in profumarsi quindi speriamo che vi sia piaciuto lasciateci tanti like tanti pollici in su per la nostra pupina e fateci sapere voi i vostri animali i vostri cani i vostri gatti si amano i bagnetti vi vogliono molti baci baci le cattini ciao ciao viva gli animali ciao ciao Grazie a tutti.